a finire questo campionato cercando di spingere al massimo fino alla fine ci stiamo riuscendo, anche oggi è venuta fuori una bella partita una partita con il risultato sicuramente giusto dove però siamo riusciti a rimontare ci abbiamo provato anche dopo il pareggio a provare a vincere la partita nonostante avessimo di fronte una Sandole che aveva bisogno di punti per raggiungere la salvezza sì, adesso abbiamo nelle corde ancora la possibilità di poter guadagnare una posizione ma sopravvanzare l'Inter e portarci all'ottavo posto ci stiamo provando, ci stiamo provando senza precluderci nulla sapendo che non è facile perché adesso c'è un divario tra le prime e le altre notevole soprattutto nei budget e questo rende difficile poter competere con quelle squadre noi facendo il Catania cercando di tirar fuori il massimo da noi stessi siamo in lotta per questo e di questo siamo orgogliosi e ci proveremo fino alla fine ma intanto se quando esci con la coscienza a posto con il sapere che non è lasciato nulla di intentato secondo me la fatica si sente meno e credo che nonostante sia stata tanta fatica oggi il recupero sarà probabilmente più veloce in virtù di una condizione psicologica che ti permette di essere sereno per cui pensiamo a questa prossima partita cerchiamo di preparare il meglio recuperando e poi cerchiamo di mettere in campo quelli che saranno più pronti per farlo